Sarà una via Crucis davvero speciale quella che si svolgerà venerdì 8 aprile nel Teatro Romano di Teramo, speciale perché lo scenario dove si snoda l'evento è totalmente cambiato. A dicembre dello scorso anno, infatti, sono iniziati i lavori di rifunzionalizzazione del prezioso sito archeologico con l'abbattimento di Palazzo Adamoli e Casa Salvoni, che hanno restituito a questo luogo antico l'aspetto religioso, civile e storico, un unicum di valore inestimabile. La via Crucis, che inizierà alle ore 21, sarà presieduta dal vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi nel solco della tradizione, che la colloca nel venerdì che precede la Settimana Santa, lasciando inalterato il programma del triduo pasquale nella città. Grazie alla stretta collaborazione tra diocesi e comune, la via Crucis potrà celebrarsi nonostante i lavori in corso. Tali interventi non consentiranno la partecipazione del pubblico in presenza, tuttavia l'evento potrà essere seguito in diretta e integralmente sulla nostra emittente. La celebrazione della via Crucis si svolge in un tempo drammatico per l'umanità, ricorda il vescovo Leuzzi. Insieme ai giovani che animeranno il cammino della croce, siamo invitati a volgere lo sguardo sul crocifisso. Solo lui può trasformare il cammino dell'umanità dalla morte alla vita per essere insieme costruttori di pace. Anche per il sindaco Gianguido Dalberto, la via Crucis rappresenta un importante momento di preghiera e raccoglimento al quale la città di Teramo partecipa e contribuisce. E il Teatro Romano rappresenta oggi il luogo più adatto e evocativo per ospitare questo appuntamento.